bentornati ai quarte creativa in questa occasione vi mostro una bozza di come dipingo un gatto con due mani non perdetevelo è molto interessante grazie bella gente mentre guardate il video vi spiego una cosa veloce veloce come vedete nel quadro sotto è come se il mio cervello funzionasse in due fatti diverse ognuno dei lati del mio cervello sceglie un colore sceglie una modalità addirittura le firme sono anche una girata all'incontrario all'altro è come una cosa speculare una dall'altra è una cosa particolare è molto interessante perché non succede molto spesso all'inizio è stato difficile per me farlo poi ci ha preso la mano adesso è talmente un'abitudine che quasi tutte le mie opere riesco a farle con tutte e due le mani e finisco prima ed è molto più interessante vengono delle opere molto diverse e completamente originali grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti è giunti la fine un bel click e suscrivetevi al mio canale ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti